1 febbraio 1957 Muore a Dresda, nella Germania comunista, Friedrich von Paulus. Ufficiale di Stato Maggiore tedesco, a capo della Sesta Armata, viene considerato a torto il principale responsabile della disfatta tedesca di Stalingrado. È lui a firmare la capitolazione nazista di fronte al generale Rokossovski e al maresciallo Voronov, contravvenendo all'ordine di Hitler di togliersi la vita. Testimone d'accusa al processo di Nuremberg, von Paulus viene rilasciato nel 1953.